Una grande classica per la categoria allievi, la Lugo-Sammarino, giunta all'edizione numero 61, 144 gli iscritti in rappresentanza di 31 società. Partenza da Lugo ha sprombattuto come spesso succede nella categoria, la prima fuga di giornata di capoferri e bolognesi naufraga prima di russi. Ma per Ludovico Crescioli non si è trattato di una vittoria facile perché Garofoli e Butteroni hanno lottato fino in fondo. La battaglia finale si è sviluppata lungo le pendici del Titano, con momenti di alterne fortune tra i tre atleti ora dinanzi l'uno, ora dinanzi l'altro, ma più spesso insieme a piccoli intervalli sino all'epilogo finale allorché mancavano 4.000 metri a traguardo. Qui Butteroni, Garofoli e Crescioli erano già dinanzi a tutti con buon margine. Poi a tre chilometri Garofoli e Crescioli approfittavano di un problema di Butteroni e rimangono soli. Su breve rettifilo d'arrivo di largo lo Stradoni e infine Crescioli avevano la meglio, bissando il successo del fratello Josue nel 2017. Garofoli continuava a attaccare sulla salita e sono riuscita a rientrare di meno due. Se è continuato noi due e qui in volata sono riuscito a batterlo e a vincere. Ringrazio anche la squadra che mi ha aiutato, la vittoria la voglio dedicare alla mia famiglia e alla squadra e ai compagni di squadra.